Musica Nel corso di una conferenza stampa, convocata nella sede del Consiglio regionale a Pescara, il Vicepresidente del Consiglio regionale, Lucrezio Paolini, ha illustrato la propria posizione in vista delle prossime elezioni regionali in programma il 10 febbraio. Paolini si dice disponibile, ma solo a sostegno dell'eventuale candidatura a presidente di Giovanni Legnini, condividendo il progetto politico con i colleghi Giorgio D'Ignazio e Maurizio Di Nicola. Io sono disposto ad una ricandidatura soltanto a sostegno di un candidato che ha il nome e il cognome di Giovanni Legnini. Se questo si verificherà, allora sono disposto a mettere in campo tutte le mie forze, tutta la mia determinazione e anche l'esperienza acquisita negli ultimi anni in uffici di carattere istituzionale come Vicepresidente Vicario del Consiglio regionale. A queste condizioni io sono assolutamente disposto ad una ricandidatura. Quello che hanno fatto e faranno gli altri a sostegno di non so chi, oggi mi interessa relativamente. Mi interessa l'idea e il progetto di portare soluzioni alla nostra regione. Ritengo che questo si possa fare con l'autorevolezza di Giovanni Legnini. In questi anni ho conosciuto in Consiglio regionale dei colleghi. Con loro voglio ricreare qualcosa di nuovo come lista civica. Superando quello che è stato detto anche da Giovanni Legnini, gli steccati ideologici e di partito, e utilizzando le menti migliori della nostra regione, che oggi ha bisogno di una nuova ripartenza e credo che questa nuova ripartenza possa essere sviluppata, perfezionata soltanto con Giovanni Legnini.